benvenuti al nuovo appuntamento con le parole chiave di estetica oggi abbiamo il piacere di incontrare marinella senatore ciao marinella come stai grazie mille per avermi qui finalmente ti vedo sono veramente contento perché ti ho inseguito un po tra le varie mostre che hai fatto non sono mai riuscito a beccarti né artissima né appunto da mazzolini sei fluttuante immagino sempre di corso più che altro immagino immagino va bene allora partiamo un po con con tirare fuori queste parole che per me rappresentano un po la tua arte su queste ci ci andiamo a costruire una narrazione allora parto subito con col ballare allora una delle tue opere più più importanti di adesso si chiama dance first think later c'è un riferimento a una citazione una citazione di beckett doveva poi alla fine dice it's natural order quindi balliamo cioè balliamo un po e dimentici le dimentichiamo un po la mente dai raccontami un po cosa rappresenta per te questa questa citazione questa frase questa volentieri come tutte le citazioni le frasi e insomma i piccoli frammenti e a volte poetici a volte anche originali c'è scritti o da me o dai partecipanti dei miei progetti nasce sempre da un lavoro creativo corale in particolare sviluppato con la mia school of narrative dance che il mio progetto itinerante che gira il mondo ormai da tanti anni e ed è basato tutto sulla possibilità narrativa del corpo quindi in realtà non è tanto una citazione che viene soltanto da mie particolari interessi ma è qualcosa che si è condiviso che si è discusso che si è letto con con tanti centinaia a volte di persone a volte anche più di centinaia e e quindi siccome è venuta fuori tante volte questa citazione come altre che utilizzo nelle opere pensavo come infatti è che potessi attivare poi altre persone in altri contesti geografici sociali completamente diversi e sembra che funzioni infatti cioè che abbia senso per tante persone alla base di questo c'è un discorso che quello che facciamo con la school narrative dance e che fanno sicuramente moltissime persone che utilizzano pratiche che lavorano appunto sul corpo che la comprensione passa anche da lì e che a volte ci dimentichiamo di averlo e che siamo sempre in testa c'è tanto nella mente e però in realtà l'esperienza è anche un'esperienza sempre fisica anche di conoscenza anche di apprendimento cioè quando vivi una situazione stai sempre in testa però in realtà c'è anche il corpo che la sta vivendo per cui noi lavoriamo tanto sui movimenti somatici tantissimo sulla mindfulness sui movimenti consapevoli che genera un emancipazione un empowerment della persona per cui è molto in linea ecco con quello che facciamo che facciamo lì e quando realizza un oggetto come le sculture luminose mi piace fissare no questi momenti che sono stati vissuti con tante persone quindi appunto il concetto di ballo il concetto di corporalità applicato un po alla luce la tua scultura luminosa è un tripudio di luce di colori che escono fuori cioè oltre la scritta quello che colpisce appunto è questo complesso di perché la come è una combinazione molto energetica secondo me perché proprio ancestralmente con le luci e vabbè io mi rifaccio molto alla tradizione delle luminari del sud italia però in realtà ci sono intanto molto sud però in realtà c'è in tante culture ci sono celebrazioni con luci a volte sono lumini a volte candele a volte luce elettrica però diciamo è molto legato alla festività in generale e in particolare a me piace molto il senso primigenio delle luminarie del sud italia che non sono soltanto o come si può immaginare legate a riti religiosi ma nel loro proprio proprio più arcaico significato avevano più a che fare con l'idea di costruire delle piazze temporanee dei luoghi effimeri con un'architettura abbastanza effimera poi che quella delle luminarie no che alla fine sono strutture esili di legno dove ci sono migliaia di lampadine quindi non occludono anche la visione del paesaggio che già esiste o dell'architettura preesistenti a me questo piace questa temporaneità delle strutture e nello spazio pubblico mi piace perché altrimenti vedo un ruolo anche abusivo no di una creazione artistica che va lì che impone che che copre ecco delle delle cose che non mi interessa però era non è un caso che poi siano state utilizzate tanto in tutte le feste di paese nelle celebrazioni anche dei piccoli villaggi eccetera perché hanno questo senso di comunità di aggregazione di creare uno spazio dove possono accadere delle cose e è un po quell'idea di piazza universale diciamo che è una piazza fisica ma anche un'idea no di di piazza c'è di luogo di raccolta quindi a me piace quel quel significato lì quindi nelle decorazioni che uso riprendo che poi alla fine il barocco in questo caso pugliese che mi piace molto e riprendo quel tipo di decorazione lì e credo che questa combinazione dell'elemento luminoso con l'elemento testuale genera effettivamente un cortocircuito molto energetico eh per me sono del del delle sculture che attivano delle cose non sono una passiva fruizione basta diciamo ma attivano un movimento energetico molte volte mi succede quando le realizzo un po più grandi tipo nello spazio pubblico nelle strade o per esempio adesso ce n'è una molto molto grande alla Biennale di San Paolo che generano poi degli ambienti vera letteralmente dove le persone poi ci fanno delle cose dove si riuniscono dove fanno delle performance spontanee cioè del lì delimitano uno spazio che è uno spazio un po speciale percepito come uno spazio speciale e si sono delle generazioni generano sinapsi secondo me delle sinapsi che ti portano un po' a a entrare in quel mondo un po' particolare che mi ti raccontavi te questo mondo di festa di di aggregazione ma appunto parlando di di festa aggregazione di di come è possibile in questo momento storico particolare dove comunque la festa l'aggregazione è un po messa ai margini cioè proprio perché chiaramente per i problemi della pandemici così abbiamo proprio la difficoltà anche sanitaria appunto di di fare aggregazione di fare quelle grosse feste cioè io ce l'ho presente quelle feste che racconti tu in Puglia dove proprio c'è delle delle fiume di persone cioè che che sono inimmaginabile quindi appunto come possono essere riviste le tue sculture luminose in questo contesto cioè in realtà sai cosa è che è molto curioso infatti mi fa piacere raccontarlo qui perché non lo racconto spesso io non ho mai lavorato tanto proprio in termini quantitativi eh come eh in pieno lockdown perché ehm io ho lavorato spessissimo e molto prima di portarle in Italia o di portarle nella collaborazione con Dior ma è già dal 2014 che faccio installazioni enormi di questo tipo nello spazio pubblico e solitamente ho cominciato negli Stati Uniti tanto ad avere commissioni poi diciamo sono state conosciute qui in realtà più tardi e a seguito soprattutto della collaborazione con Dior che ovviamente era una macchina di comunicazione molto molto grande però in realtà le facevo già da tantissimi anni e ehm però durante la pandemia hanno avuto proprio il loro senso più forte innanzitutto perché poi molte volte sono accompagnate da ehm lavoro della mia scuola narrativa dance che si è sempre fatto online perché noi abbiamo sempre lavorato eh molto ben ben prima ovviamente della pandemia come tanti con queste piattaforme come questa da cui ci colleghiamo oggi perché la partecipazione non è solo una metodologia per me ma è anche soprattutto il contenuto su cui indago e ricerco quindi non è soltanto uno spazio fisico ma è anche uno spazio mentale emotivo anche e quindi eh generare eh lavorare sulla partecipazione su sistemi di eh coinvolgimento nell'opera d'arte di tante persone che non possono fisicamente al di là della pandemia molto cioè ben prima basti pensare alla popolazione carceraria per esempio cioè ovviamente io ci ho sempre lavorato già con piattaforme di questo tipo cioè la scuola narrativa dance durante il primissimo lockdown con un progetto con Palazzo Strozzi è arrivata nell'RSA con eh tantissimi partecipanti che sono persone molto anziane con il quale abbiamo lavorato tantissimo peraltro ehm e con condizione di Alzheimer quindi insomma non solo soli e solissimi ma già di partenza cioè anche persone senza famiglia eccetera le persone nelle donne nel carcere di Toscano la stessa cosa e molte volte questo tipo anche per la Biennale di San Paolo dove noi per un anno abbiamo lavorato così perché non c'è stato possibile viaggiare e e l'area con la quale diciamo la comunità enorme con la quale lavoravamo ai margini diciamo della città quindi anche un posto abbastanza drammatico è stato proprio l'hub della pandemia lì in Brasile con l'ospedale più grande con migliaia e migliaia migliaia di casi tutti i giorni per cui non potevamo viaggiare e abbiamo lavorato sempre eh online perché eh ci interessa anche il fatto per esempio tornando eh a in Italia con il progetto che ho fatto per Strozzi ci interessava molto coinvolgere del proprio delle popolazioni che non possono essere in presenza comunque eh e che non per questo sono stigmatizzate perché possono venire e partecipare ai progetti senza neanche dirti guarda cioè io sono una persona che sta scontando una pena cioè eh la piattaforma online mi ha sempre permesso di creare una certa orizzontalità tra gruppi molto eterogenei no? E comunque tornando poi al focus diciamo della tua domanda questi spazi qui eh costruiti attraverso questa eh questi inserti luminosi eccetera sono per me dei monumenti alle persone di adesso in contrasto netto con il concetto di monumento che per fortuna è molto rimesso in discussione in giro per il mondo anche con l'abbattimento di monumenti che molte volte anzi nella stragrande maggioranza dei casi non considerano persone eh indigene non considerano donne e sono eretti a maschi bianchi che normalmente hanno ucciso per conquistare dell'eterio conquistare un'egemonia un potere io faccio un discorso completamente opposto il mio momento il mio monumento è temporaneo perché poi eh viene rimosto non eh non è eretto a personaggi del passato nemmeno delle ideologie ma le persone qui e adesso ed è tra tra l'altro costruito in base a per esempio le frasi di cui parlavamo prima con elementi che provengono da altre situazioni da altre persone che lontane nel tempo e nello spazio ne attivano di altre quindi in realtà è stato veramente fondamentale farli in pienissima pandemia perché come ti dicevo non è soltanto una questione fisica il pensarsi comunità eh l'aggregazione la coesistenza la coabitazione tra esseri umani ma innanzitutto come lo pensi come lo vedi e come ti vedi in rapporto all'altro e quindi avere un senso di vicinanza sociale in un momento di distanza fisica è stato fortissimo eh e questo si è tradotto nel fatto che eh ho lavorato e lavoro tantissimo ma lavoro anche con la scuola nella tidenza e con le performance perché anche se c'è il distanziamento sociale i limiti di di gruppi che ovviamente devono essere nel nostro caso sono circa una decina e quando hai migliaia di partecipanti significa un lavoro massacrante per noi perché dobbiamo fare tantissime cose nello stesso giorno eh cioè praticamente non stop H24 quando ci sono i momenti intensi per garantire che tutti facciano l'esperienza però questa è la condizione del corpo nostro adesso e non è che noi smettiamo di avere il corpo e smettiamo di sentire anche tutto quello che con che comporta questo questa mancanza anche di contatto fisico eh e quindi allora non possiamo farlo no noi lo facciamo con la situazione che c'è adesso con il corpo come vive adesso tant'è vero che lavoriamo tantissimo sullo spazio domestico perché è esattamente lo spazio in cui stai la maggior parte del tempo anche con adesso il lavoro remoto eccetera è è amplificato tantissimo questo e quindi vediamo come come stiamo in relazione con gli altri quando non li possiamo toccare ma anche come stiamo in relazione con il nostro stesso spazio cioè questo non è uno studio da poco cioè se lavori sulla partecipazione se lavori con il corpo se lavori su tutte queste belle cose che ci siamo detti non è che puoi lavorare solo quando ci sono le condizioni che tu pensi siano ottimali cioè lavori con il qui ed ora e quindi anche con le sensazioni le emozioni disagi e anche con cercare di attivare una conoscenza diciamo è un pensiero su come stai adesso fantastico tra l'altro nelle nella narrazione nel racconto che mi stavi facendo è anticipato un po' l'altra parola chiave che che ti stavo chiedendo che era il concetto un po' di dei tuoi lavori che lavorano all'interno delle assimetrie sociali e quindi mi hai già raccontato di fatto sei andata avanti avevano fatto delle sinarzi parlo troppo sì scusami no va bene va bene appunto il concetto della conversazione è proprio questa che magari poi si innestano dentro delle delle parole che comunque ci sono nel nella narrazione nel nel quotidiano quindi va bene passa un'altra che che racchiude un po' anche questa cosa che mi hai detto abbiamo parlato di arte abbiamo parlato di di danza abbiamo parlato di fotografia cioè tu sei anche una fotografa e sei anche qualcosa legato alla musica tu hai una formazione musicale di musica classica giusto come come si si inserisce la musica all'interno del del complesso della tua multidisciplinarità della tua poliedricità artistica appunto io ho studiato al conservatorio quindi una formazione molto classica suono il violino poi però con il violino fatto anche punk rock insomma e tantissimo jazz a me serviva molto capire il sistema dell'orchestra secondo me alla base di questo mio interesse per la musica c'era alla fine sempre una struttura corale di lavoro perché poi non è un caso che ho voluto studiare anche cinema e non ho voluto fare l'autore ho io ho studiato direzione della fotografia con giuseppe rotuno grande maestro che aveva illuminato tutti i film di fellini di pisconti eccetera e ho voluto proprio fare parte della crew no del anche più tecnica possibile ahimè anche solo maschile perché anche questo è da dire cioè bisognerebbe decolonizzare barriera importante non solo in italia questo tipo di di professioni perché non vedi proprio donne al lavoro in questi in questi gruppi però al di là di questo che che è un altro tema a me interessava capire la struttura cioè quello che mi affascinava ovviamente l'ho capito col tempo non mentre lo facevo non era soltanto il linguaggio di per sé ma anche proprio il sistema di costruzione di quello tant'è vero che come violinista io ho sempre suonato in orchestre anche proprio di tipo classico super super classico e convenzionale cioè a me piaceva quello quel lavoro lì e mi piaceva un'individualità che arriva che arriva alla massa massima espressione ma in un contesto corale dove comunque la metti in connessione con altre individualità altre anche perché il concetto di massa ecco proprio non mi appartiene cioè invece è proprio la fioritura di ogni singola individualità all'interno di una catena di lavoro che secondo me invece è interessante e perché se altrimenti ti vedi invisibile non ti senti percepito cioè non non è quello è proprio invece esaltare tutto quello che che tu hai come persona il tuo bagaglio c'è in contatto con le tue cioè tutte le tue tradizioni le tue le tue origini le tue visioni i tuoi conflitti questo lo dico anche in virtù poi dei 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 progetti che faccio eh dove si si condivide molto diciamo della persona si parla tanto ci si racconta molto eh ci si racconta forse addirittura di più quando sei insieme ad altri che non eh in una situazione a due ecco ma quando sei in un contesto dove ti senti molto più libero paradossalmente di 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 essere chi sei e e la stessa cosa veniva nel cinema cioè c'era il direttore della fotografia la costumista sceneggiatore scenografo produttore cioè ognuno aveva il suo ruolo quindi il suo timbro per fare un paragone con lo strumento musicale e aveva la sua creatività il suo livello anche di eh di fioritura personale cioè dai il massimo di te dai quello che che ehm condividi veramente cose importanti di te per un obiettivo però comune che in quel caso era suonare quella sinfonia piuttosto che eh mettere in scena quel tipo di storia no eh e non un'altra diciamo non è che ognuno aveva la sua il suo plot no cioè lavoravamo tutti su una narrazione comune e la stessa cosa succede ovviamente nell'orchestra quindi a me questo interessava poi ovviamente la musica anche per studi miei personali è entrata dentro come eh cioè diciamo è tutto un cerchio per me è entrata dentro proprio nella struttura anche estetica diciamo formale delle cose che faccio eh e non è un caso che appunto è uno dei linguaggi che poi si utilizzo perché ovviamente si utilizza tantissimo sia nelle performance che nei nei film eccetera però ehm lavoro tantissimo con compositori faccio anche progetti di partecipazione solo ed esclusivamente basati sulla condivisione di suoni e musiche per cui insomma poi c'è un mio personalissimo amore anche per la canzone popolare la canzone di protesta eccetera quindi insomma tutto questo fa parte di una multidisciplinarietà che è per me ovvia e infatti vorrei tanto io cerco di farlo almeno con i miei studenti che non si parlasse più di un artista in relazione perché è veramente anacronistico in relazione al medium che utilizza quelle pittore quelle scultore quello fa quello perché non ne posso più veramente ma che si parla perché quella è un'etichetta che serve magari al mercato per identificare un prodotto e questa la verità però in realtà la multidisciplinarietà è la contemporaneità la trasversalità cioè pensarmi ecco non ecco pensiamo come pratiche cioè la pratica quando parlo di partecipazione mi sta anche stretta l'etichetta di performer innanzitutto perché non ho mai performato nelle mie performance non ho proprio la tradizione della performance d'artista concepita in quel senso cioè io non appaio e poi secondo me cioè è molto riduttivo anche perché non è assolutamente l'unica cosa con la quale mi esprimo e con la quale si esprimono anche le persone con le quali lavoro quando ero più giovane ero una video artista perché magari in quegli anni producevo molti più film video c'è una cosa proprio assurda per me bisognerebbe parlare finalmente di pratiche stop e e concepire la multidisciplinarietà come un fatto ovvio perché tanto lo è cioè di fatto lo è quando faccio i festival che sono una tradizione che in italia non c'è tanto però tantissimo in nord europa negli stati uniti i festival mettono insieme arti vissive arti performative musica teatro cioè veramente la qualunque cosa senza assolutamente distinzioni e gerarchie e quello è un formato che a me piace molto assolutamente ultima cosa che va beh questa è più una curiosità che più che una parola vedo dietro di te delle tele vedo dietro di te un tavolo da lavoro che cosa stai facendo in questo periodo oltre a girare il mondo oltre a essere in giro sei lavorando su qualcosa in particolare mamma mia sì sì ci sono c'è un progetto enorme l'anno prossimo e facendo delle adobe di natale assolutamente no come vedi io non neanche cose alle pareti c'è proprio di ridurre al massimo le cose no io lavoro sempre in studio questa è una cosa che in italia non era tanto percepita spero che con la mostra o ultima che ho fatto appunto che dal galleria mazzoleni a torino si sia capito un po il percorso anche mio personale perché disegnare dipingere sono i modi in cui io capisco le cose in cui rifletto sulle cose che ho che ho fatto in cui lascio anche andare depositare tante cose perché non è che sia proprio semplicissimo eh lavorare con milioni di persone e cioè hai hai cose che ti ronzano in testa cioè lo faccio proprio per mia salvezza personale e e poi anche il mio studio è un porto di mare praticamente cioè in tutti i posti in cui c'è uno studio eh nelle varie città del dove ho vissuto nelle città adesso vivo tra Parigi e Roma ehm entrano persone in ogni momento adesso non l'ho fatto per per dare modo a noi di chiacchierare però ehm è veramente importante anche questo mi piace moltissimo l'idea che lo studio sia un posto dove transitano persone anche non legate all'arte come del resto succede in tutti i lavori nostri e e che possono addirittura mettere le mani su quelle telli lì non è vero che per me la neanche la pratica pittorica è una cosa solo intima mia eh anche perché io mi sento intima e mia anche quando sono nel casino totale insomma cioè non ho non ho bisogno di quel tipo di esperienza lì cioè lo faccio con la meditazione nelle stanze mie segrete diciamo però ecco eh il lavoro in studio è fondamentale mi piacerebbe infatti fare sempre più mostre le farò infatti nei prossimi anni dove si si pensa a tutto il percorso perché appunto una persona non arriva a fare lavori con ventimila trentamila persone eh così d'ambleno e io sono sempre stata molto eh diciamo eh la curiosità che 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 mi hanno sempre manifestato eh interlocutori amici giornalisti curatori eccetera è stata sempre ma come mai arrivano tutte queste persone non i tuoi progetti eh ma quello è un lavoro cioè forse la parte più importante che non è quella di avere grandi numeri ma quella di eh lavorare proprio sul tessuto sociale no? E è la è la mia fibra cioè non potrei fare in maniera diversa quindi sto preparando adesso una mostra in realtà sono mostre ma molte volte io faccio tutto il pacchetto cioè eh eh mostra eh ehm progetto in nello spazio pubblico e school on narrative dance e quindi ho Parigi, Arkansas, eh Olanda, Belgio, eh tutto per l'anno prossimo. Poi sto preparando già Tel Aviv, eh Germania perché ho vinto un un bellissimo premio per cui farò una cosa molto molto grande a Baden Baden e è una cittadina del mondo diciamo una cittadina del mondo. Guardo ho vissuto in tanti posti e ovunque ho vissuto eh ho fatto una vita nomade per più di vent'anni cioè mi spostavo a seconda del posto in cui lavoravo per cui mi spostavo continuamente e vivevo almeno uno due anni anche tre o quattro in in alcuni posti a seconda proprio di dove lavoravo per cui ho delle piccole comunità diciamo costruite e per fortuna anche una diciamo un rapporto che che con musei ovunque e questo per me è molto importante perché per me è molto importante il ruolo di un museo e quindi sì la mi piace tantissimo lavorare in Italia perché ovviamente è anche molto emotivo per me ogni volta visto che in realtà metà della mia vita l'ho fatta fuori e però sì cioè ho legami tantissimo eh con quasi tutti i paesi cioè eh l'unico paese dove non ho mai lavorato è l'Australia eh però per esempio c'è attraverso le biennali che sono fatte più di ventisette cioè mh veramente ho lavorato ovunque è continuo e poi è bello perché ritorno sempre nei paesi dove ho lavorato cioè non non è mai un solo progetto e poi basta perché si creano delle cose molto molto belle lì e quindi anche lo Sri Lanka per esempio a gennaio cioè cose veramente sei proprio in giro per il mondo dai magari quando capiterà di venire a Roma ti verrò a trovare in studio volentieri volentieri ma io ti ringrazio ringrazio tantissimo della conversazione della chiacchierata del tempo che ci hai dedicato e di averci un po' fatto entrare anche noi dentro queste tue sculture sonore quasi come fossimo delle piccole lampadine che anche noi ci inseriamo all'interno del dei dei tuoi progetti e delle delle tue installazioni grazie di tutto e ci sentiamo prestissimo a presto molte grazie auguri a tutti auguri ciao 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 ciao